Buongiorno, oggi siamo venuti per gusto verde a Frigintini, nel cuore della Sicilia, a pochi chilometri da Modica. Abbiamo incontrato nel suo orto personale la mitica Maria Fidone, una memoria storica della ristorazione in questa zona. E c'è una verdura fantastica, questa qua la vediamo, che cos'è? Si chiama la ita. Una volta che l'abbiamo raccolta, cosa facciamo? La puliamo? La puliamo, ci leviamo le pampine più vecchie. E poi cosa si fa? Viene lavata e bollita. Lessata. E alla fine? E poi condita o fatta a pasticcio, noi diciamo a pasticcio. Cioè viene condita con che cosa? Pomodoro, pomodoro secchi, olive nere, peperoncino e pangrattato. Ma viene impastato tutto praticamente, viene fatto un ripieno? E facciamo a suolo a suolo. A suolo a suolo, esatto. E poi da una parte abbiamo tirato una pasta fresca, no? Una pasta un po' doppia e poi di sopra ce ne mettiamo una, facciamo il coperchio. E la chiudiamo? E la chiudiamo e si mette al forno. Quanto tempo? E' un 20 minuti e mezz'ora. E allora ecco la grazia che è arrivata e sua figlia, grazie, è vero Maria? Grazie mia figlia. Il pasticcio questo, no? Ricordiamolo ma della verdura. Il pasticcio laita. Esatto, lo tagliamo adesso, ci faccia vedere. Questo si taglia così a fette praticamente. Sì, a spicci. A spicchi. Ma cos'è un antipasto, un primo piatto? Come lo mangiate qua da queste parti? Un primo piatto. Un primo piatto. Anche una mangiata intera su buon affare.